Il mondo intorno a te parla, ascoltalo, fallo con gli appariti acustici di Acoustical. Sono veri e propri microcomputer multifunzionali applicati all'orecchio. Per informazioni 379 16 65 428. Altro weekend di gare per la Camuna Master Rapid SKF CBL al Palapellicone di Ostia Lido in Roma, dove si sono disputati i campionati italiani juniores. Tre giornate intense interamente riservate agli atleti facenti capo alle annate 2007, 2006 e 2005. Numeri da capogiro per l'evento che ha richiamato circa 800 agonisti all'appello a distinguersi ancora una volta le giovani promesse nostrane, in particolare nella disciplina del catà femminile, dove Miriam Ederar, superando in finale l'Emiliana Martina Padoan, si è laureata campionessa italiana. Magistrale la prestazione offerta dalla giovane atleta cremonese, che svolge i suoi allenamenti proprio in Vallica Monica, a cavallo tra Piancamuno e Cividate. Grande soddisfazione per lo staff guidato dai maestri Francesco Maffolini, Francesco Landi e Dario Zanotti, che solamente un paio di settimane fa avevano visto il trionfo al maschile di Giulio Sembinelli nella medesima manifestazione dedicata agli studenti universitari. Questo risultato paga in parte dei grandi sacrifici che Miriam e la sua famiglia affrontano quotidianamente, ha dichiarato Maffolini. Con questo successo di grande valore, per lei si apriranno le porte della nazionale giovanile in modo sempre più autorevole. Miriam Ederar, avendo raggiunto la finale, è già infatti stata convocata al seminario ristretto, un'altra bella esperienza che contribuirà ad aumentare il suo bagaglio tecnico. Buona prestazione nel complesso anche per tutto il resto del gruppo, che nonostante l'emozione ha disputato delle buone prove. In evidenza anche Andrea Mazzarello, quinto nel maschile, e poi ancora Leonardo Barletta, Filippo Calabrese, Basma Cheruachi, Leonardo Calvi, Giorgia Duca, Cari Ederar, Matilde Micheli, Oscar Moretti, Leonardo Bombardi, Giada Norris, Emanuele Pendoli, Elisa Vielmi e Camilla Perina.